tronco tronco un cazzo ti scivola tronco tronco un cazzo vai su vai su vai su vai su vai su aiuto potente rifaccio devi arrivare più lungo perché è vicino sotto non tiene niente devi arrivare lungo cioè devi arrivare con già la spinta se no non passa no così è accesa mi segnala che sto facendo una cazzata comunque devi arrivare lunghi devi arrivare lungo bravo 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 lungo ma bravo bravo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.